Buongiorno ragazzi, benvenuti nella mia casa virtuale da cui partiremo per vivere alcune avventure, per viaggiare verso luoghi lontani, indietro nel tempo, per scoprire le grandi culture e lo faremo in questo modo grazie ad alcuni personaggi della fantasia che ci guideranno in questo nostro viaggio e quindi preparatevi perché stiamo per partire. A presto! Grazie a tutti!